Un anno e dieci mesi di reclusione, queste erano state le proposte di patteggiamento avanzate da tre operatrici della casa di riposo di strada di Castel San Nicolò, richiesta adesso rigettate dal gruppo del Tribunale di Arezzo Pier Giorgio Ponticelli. Ad inoltrare le proposte erano stati legali di tre donne che lavoravano nella RSA casentinese, accusata assieme ad altri quattro colleghi di maltrattamenti. A documentare gli episodi erano stati video girati dalle telecamere nascoste, piazzate all'interno della struttura dai carabinieri, immagini shock che avevano suscitato, orrore, rabbia e indignazione. Le telecamere avevano infatti immortalato Sceneda Incubo, schiaffi, botte, insulti e maltrattamenti di ogni genere nei confronti degli anziani incapaci di difendersi e che loro avrebbero dovuto accudire. Secondo il giudice Pier Giorgio Ponticelli, dunque la pena e la concessione della condizionale proposta non sarebbero stati congrui anche rispetto alla gravità dei fatti contestati. Gli atti adesso saranno così rinviati al PM Marco Dioni. Gli altri quattro indagati invece avevano optato per altri riti processuali.